Scrivi tu per piacere Sotto a quel commento Metti un commento Io adesso ho fatto partire Ho fatto ripartire Adesso Forse ci siamo Forse ci siamo Dovremmo aver risolto i problemi audio Prova, prova Grande, ciao Daniele Sì, sì Prova il microfono Buon dai Più o meno ci siamo Troppa tecnologia Stavo perfino pensando di mettermi a cantare Ma vi risparmierò Questo pattimento Allora Vediamo se tornano dentro tutti quelli che c'erano prima Non saremo tantissimi oggi Anche Emanuela Mi dice che si sente Perfetto, dai Allora Oggi volevo un po' finire Questa serie di sedute Che abbiamo fatto Con una seduta di recupero muscolare Utilizzando i rulli Ne avevamo fatto uno all'inizio Non faremo niente di particolare Se non qualche esercizio Soprattutto per gli arti inferiori Che sono quelli che abbiamo usato di più in queste settimane C'era qualcuno che mi chiedeva Che tipo di rullo prendere Allora Su quelli Della black roll Ci sono diverse durezze Da quelli più morbidi Che sono questi qua ammaculati Che però Secondo me per una persona Diciamo allenato Sono troppo morbidi Van bene magari più In ambito fisioterapico Per chi non è tanto sportivo Quindi questi qui lasciateli stare Io consiglio di seduto quelli standard Che sono questi qua neri Poi indipendentemente dal fatto di avere o no Queste canalette È una cosa più Diciamo di massaggio Di sensazione personale Quindi c'è chi a chi piace con le canalette A chi piace senza Il risultato non cambia Questo arancione è quello più duro che c'è E forse per alcune cose Per chi non è abitato è quasi troppo duro Quindi la via di mezzo È come sempre Quella più consigliata Invece una cosa carina È questo qui Che per il piede Per l'arco plantare E anche per il polpaccio In realtà si riesce ad utilizzare E questo qui vale veramente la pena averlo Ovviamente I costi sono relativi Perché costano 10 euro questo 30 euro questo Non andate a buttare via I soldi A prendere quelli della Decathlon Da 15 euro Che poi dovete lasciarlo lì E comprarvene un altro Perché quelli della Decathlon Sono troppo rigidi E fanno troppo male E non si riescono a usare Ve lo dico perché È la cosa che succede di solito I 10 euro di differenza Non vi cambia niente E una volta che ce l'avete Non li spendete più Allora Lavoriamo Intanto una cosa Per il discorso D'utilizzo del foam roller Non serve Necessariamente farlo a caldo Possiamo farlo tranquillamente Anche a freddo Che è quello che faremo oggi Non faremo degli esercizi prima E tra l'altro Usando questi esercizi E facendo alcune Alcune posizioni È anche un bel lavoro Per il core Quindi per tenere la posizione Comunque lavoriamo Con gli addominali Con i glutei Quindi è un lavoro Diciamo anche Un po' di rinforzo Non è ovviamente Come fare Di lavori specifici E poi hanno un'utilità Che se ne avete due o tre Potete anche usarli Per sedervi sopra Come sto facendo io adesso Comodissimi Vedete Sono anche abbastanza morbidi Quindi Anche se andate in campeggio Van benissimo Ok Allora Iniziamo col rullo Immagino Non sto ad usare quelli piccoli Perché chi L'ascolta Immagino Abbia comunque Solo quelli grandi Quindi Utilizzeremo questi È indifferente Uno l'altro Iniziamo a lavorare Un po' sul piede Come vi dicevo L'altra volta Che abbiamo fatto La seduta Io A me piace di più Fare Un po' di rullo Dopo aver corso Magari anche solo Cinque minuti Però farlo Alla fine Dell'allenamento Ogni tanto Lo faccio anche a freddo Soprattutto quando sento Delle Tensioni Un po' più Marcate In certe zone Muscolari In certi gruppi muscolari Ora Dopo questo periodo In quarantena Cambiamo piede Intanto Dopo questo periodo In cui Ho fatto anche Tanti Tanti rulli Relativamente Tanti Rispetto a quello Che facevo prima Con la bici E come vi ho detto Anche l'altro giorno Mentre facevamo gli esercizi Una cosa Che mi rendo conto Quando corro Adesso È che mi sento Un po' Tra virgolette Accorciato Sulla parte anteriore Quindi Con il rullo Cercheremo oggi Di rilasciare Un po' di più La parte Soprattutto Il quadricipite E La fascia alata Quindi Il muscolo Della coscia In generale Lavoreremo un po' Di più lì Per cercare di smollare L'articolazione Dell'anca Ovviamente Insieme a questo Va benissimo Anche far lo stretching Anche lo stretching Classico Tenere qualche secondo Questa posizione Magari non a freddo Questo lo facciamo Dopo Un breve riscaldamento O comunque Anche alla fine Di aver fatto La seduta di oggi Va benissimo Perché Comunque ci scalderemo Allora Per Piante dei piedi Vabbè Questo qua È un rullo Abbastanza grande Quindi Non lo sentiamo tantissimo Sarebbe meglio Quello piccolo Oppure una pallina Ottimo esercizio Per chi soffre Di fascitti O altri problemi Alla piazza del piede E poi andiamo a terra E passiamo un po' I colpacci Tempo di esecuzione Circa 30 secondi Per il gruppo muscolare Non serve Stare lì Minuti Iniziamo Della parte bassa Andiamo verso il ginocchio E torniamo giù Se troviamo dei punti Che sono un po' Più dolorosi E sentiamo un po' Di più di tensione Ci fermiamo sopra Per qualche secondo Aspettiamo Che si rilasci E poi Ricominciamo Ci passiamo sopra Altre due o tre volte È indifferente Fare Tutto il muscolo Dal fondo In cima In un singolo colpo Oppure fare Magari Due o tre passaggi Più bassi Puoi andare verso l'alto Due o tre passaggi Più in alto E poi altri due o tre passaggi Ancora in cima L'importante È cercare di Massaggiarlo In modo abbastanza Uniforme Altra cosa importante È che il muscolo Ovviamente Non ce l'abbiamo Solo qua dietro Ma per riuscire A massaggiarlo tutto Dovremmo lavorare Anche lateralmente Quindi Non teniamoci A persa posizione Del piede Buttiamo ogni tanto Il piede in fuori E facciamo un po' di più La parte esterna Qualche secondo Due o tre passaggi Poi torniamo Magari sulla parte posteriore Due o tre passaggi Poi andiamo più internamente Anche qua due o tre passaggi E altra cosa Il piede Come lo teniamo Possiamo tenerlo a martello Ma sentirete Ma sentirete che in questo caso La pressione Sarà un po' più bassa Lavoreremo in questo caso Più Superficialmente Mentre se lo teniamo rilassato Sentirete un po' più La pressione Più profonda Ecco è arrivata anche Jack Quindi qua Jack E sentite che andiamo anche un po' più in profondità Non c'è anche in questo caso Una cosa più giusta E più sbagliata L'importante È Magari variare Facciamo una volta Un passaggio col piede più Più a martello Una volta più rilassato L'altro piede Lo possiamo tenere a fianco Oppure Se non avete dolori particolari Possiamo tenerlo anche sopra Cambiamo gamba Perché a forza di chiacchierare Ho fatto solo la sinistra L'appoggio sempre sul Sulle mani Vedete che anche qui Stiamo lavorando comunque col core Con i glutei Con gli addominali Per mantenere la posizione Infatti Doverste anche notare Che ci si inizia un po' a scaldare Quindi è un ottimo allenamento Anche Per il core Passiamo Andiamo verso l'esterno Già che hai perso la pallina Ok E abbiamo fatto i polpacci Adesso Visto che abbiamo detto Siamo trovati Vogliamo allungare un po' Tutta la parte anteriore Tra i polpacci Cerchiamo di lavorare anche I muscoli Che sono Qui davanti Lateralmente Non ovviamente Sull'osso Sulla tibia Ma un po' più esterni Li sentite Se passate sopra con le dita Cerchiamo di Allungare anche questi Rilassare anche questi Molte volte Non vengono Trattati Anche quando facciamo stretching Non ci si pensa mai In realtà anche qua È opportuno Ogni tanto Fargli una Dargli una passata Come facciamo? Ci mettiamo Possiamo stare in ginocchio Oppure In piedi Ad esempio Appoggio sul piede sinistro Vado ad appoggiare La gamba Anteriore Esterna Destra Sul rullo Cerco anche in questo caso La posizione più Corretta Quella che Mi permette di sentire Un po' di pressione Sul muscolo E poi Decido quanto peso Metterci sopra E anche qui Do un po' di passate Alternando Andando a cambiare Anche qua L'angolo di lavoro Quindi più esternamente Più internamente In base a Quanto voglio Massaggiare Quella parte E poi cambiamo gamba Jack Stai cercando Di incastrarti Sotto il divano Per prendere la pallina Anche qui Facciamo a sinistra Sia Più internamente Che più esternamente Magari Non andiamo Proprio sulla tibia Perché Sulla tibia Può dare un po' di fastidio Soprattutto Attenzione Per chi è anche Ha problemi Periostiti O altre infiammazioni Magari il caso Di non andare Proprio A schiacciarli sopra Quindi In quei casi Ovviamente Non lo facciamo Ok Passiamo Al Quadricipite Coscia Ciao Guido Sì sì Il Jack viene Per Monti Con me In su Mi stacca Ma in giù Ancora no Allora Quadricipite Quadricipite Appoggiamo Il Il rullo Sopra il ginocchio Gamba Gamba Esterna Appoggiata Con il ginocchio Fuori Decidiamo Quanto peso Metterci Metter sopra Il rullo Ovviamente Anche qui Se lo facciamo Con il ginocchio Piegato Lavoriamo più Superficialmente E sentiamo Un po' Meno fastidio Se lo facciamo Con il ginocchio Dritto Invece Lavoriamo In modo Un po' Più profondo Cerchiamo Di fare Due o tre Passaggi Per parte Così sentiamo Anche la differenza Posso stare Con i gomiti A terra Tipo un plank Basso Oppure con Un plank Alto Trovate voi La posizione migliore Che vi permetta Di massaggiare Tutto il muscolo Non dobbiamo Fare Il passaggio Velocissimo Cioè non è che Devo farlo Così Un po' Più lento Cercando sempre Di fermarmi Eventualmente Ecco qua Il punto Magari che fa Un po' Più male Cerco di Rilassare Già qui Siamo su Alcuni punti In cui Con la pressione Sentiamo un bel Fastidio Tra virgolette Deve essere sempre Sopportabile Non troppo Non troppo Forte E pian pianino Ci spostiamo Verso l'esterno Quindi Mi metto Dall'altra parte Così Mi vedete meglio Ci spostiamo Verso La fascia Alatta Quindi L'esterno Coscia Ricorda come Dicevamo L'altro giorno Tensioni Sulla fascia Alatta Vanno molte Volte A ricadere Sul ginocchio Anzi Direi che Vanno sempre A ricadere Sul ginocchio E molte volte Cause Di dolori Sull'esterno Di ginocchio Sono dovute Semplicemente A tensioni A questa fascia Di tessuto Connettivo Che abbiamo Qua lateralmente Con un po' Di rullate Con un massaggio Miofasciale Ovviamente Fatto Magari due o tre volte In modo costante Si riesce A A risolvere O attenuare Il problema Ovviamente Come tutto Non basta Una seduta Non basta Un minuto Per cercare Di farlo In modo Abbastanza costante Ok Cambiamo gamba Anche qui Andiamo Sulla destra Con il rullo Sul muscolo La coscia Iniziamo Prima la parte Anteriore E poi Andiamo Verso L'esterno Anche qui Se troviamo Dei punti Dolorosi Ci fermiamo Qualche secondo Ok E continuiamo Andiamo un po' Più verso L'articolazione Quindi più in alto Sentiamo Proprio vicino All'anca Prima di Massaggiare La parte più alta Della Coscia Con dei movimenti Con un range Ridotto Ok E adesso Facciamo quella Che forse è la parte Più dolorosa Che però è una delle cose Migliori Quindi sulla fascia Alata Abbiamo già lavorato Un po' prima Adesso Ci lavoriamo Mettendo In questo caso Che sono appoggiato Sulla coscia sinistra Piede destro Avanti Vado in appoggio Sul gomito Troviamo l'equilibrio Deve essere un po' in linea Anche in questo caso Decido io Quanto carico Metterci su Spingendo più o meno Con le Mani per terra Alzando Oppure no Il piede Posteriore E lavoriamo Sulla fascia Alata Quindi su questa parte Laterale Della coscia Qui di solito Si salta Le prime volte Se non lo fate Regolarmente Ecco perché È importante Fare anche magari Solo 10 secondi Ma farli Non dico Tutti i giorni Perché ovviamente Non c'è mai il tempo Però Almeno Un due o tre volte A settimana Non serve tanto Per farlo Anche appena svegli Cambiamo E anche qui Andiamo Sulla parte laterale E anche qui Dovreste sentire Che ovviamente Da un lato Sarete più Rigidi Dall'altro Sarete un po' Meno Tesi E quindi Cercare un po' Di capire Anche dove Forse c'è Da lavorare Un po' Di più Un po' Di meno Ok E alla fine Siamo anche saldati Perché adesso Si inizia a aver caldo Al fine abbiamo lavorato Anche con il core Per mantenere le posizioni E lavoriamo adesso Quindi Vi ha fatto la parte anteriore Possiamo inserire Visto che abbiamo Dato che abbiamo Cercato di allungare La parte anteriore Dopo aver fatto Un po' Di rullo Possiamo anche inserire Un paio di esercizi Di stretching Ci sediamo Sediamo Sui talloni E andiamo indietro Un viaggio pian pianino Adesso portare la testa a terra Le spalle Sono qui dove arrivate Senza allungare troppo le ginocchia Ecco che arriva il gesto Come è qui Grazie Non mangiarmi le cuffie Dai Ah Fai stretching anche tu Jack E teniamo la posizione Qualche secondo Trenta secondi Sentirei allungare E torni lassù E dovreste sentire Che insomma Rispetto a prima Avete un po' meno Avete un po' meno tensioni Sulla parte Sulla parte anteriore Facciamo Visto che È sempre Un punto un po' delicato Anche il piriforme Gluteo Quindi Piriforme Vi ricordo che Molte volte È causa Di fastidi Sulla parte posteriore Della coscia Della gamba Che molte volte viene Imputato a ernie In realtà Magari solo Una contrattura Della zona Alpiriforme Che può essere Risolta con manipolazioni Del fisioterapista Oppure con stretching O anche con Con rullo Ci mettiamo Col piede In questo caso Io al destro Piede destro Sopra il ginocchio sinistro Col gluteo destro Sopra il rullo E qui cerco di Ruotare Finché trovo Il punto in cui Di solito Il punto che dà più fastidio Dovresti sentire Un punto in cui Il rullo Da Non dico sollievo Però dopo Da sollievo E ci stiamo Sopra per qualche secondo Con dei movimenti Abbastanza ridotti In questo caso Non andiamo a fare Dei movimenti ampi Perché stiamo lavorando Su un muscolo Abbastanza piccolo E abbiamo sempre L'appoggio anche qua Sul piede A terra E sulle mani Per decidere Quanto peso Scaricare E poi Cambiamo Cambiamo lato Quindi Via sull'altro Sul piede Ruotiamo Leggermente E qui Fa saltare Di solito Il piede Riforme Lo individuate Anche col dito Partendo Dall'articolazione Del femore Se andate un po' indietro Schiacciando Doveste sentire subito Il punto Che vi fa saltare E quello lì Molte volte Fa anche bene Tenerli il dito Schiacciato Fermo Per qualche secondo E poi rilasciarlo Rilasciarlo Che qui Ci giriamo su Un 20-30 secondi Ok Quindi già così Poi ovviamente Possiamo anche stare Anche stare Sopra Seduti E andare un po' Avanti e indietro Idem Possiamo fare anche Per le gambe Se andare con una gamba Solo Ci fa Ci dà troppo fastidio Possiamo stare con tutti e due In modo che distribuiamo Di più il peso E adesso alla fine Possiamo fare Un po' per la schiena Quindi Per la schiena Non c'è tantissimo da fare Semplicemente Ci mettiamo Appoggiati Con il rullo Dietro le scapole Un po' più basso Magari Alessiamo i glutei da terra Buttiamo indietro le mani E dovreste sentire un po' di croce Mentre lo passate Le prime volte Anche in questo caso Se avete quello Duro Come quello che ho io Può dare un po' di fastidio Sulle vertebre Quindi è meglio In questo caso Appunto magari quello nero Che è un pelo più morbido Potrebbe dar meno fastidio Essere Magari più utile Per questo esercizio Ok Anche qua facciamo In solito una decina Di passaggi Ok E E quindi il grosso Alla fine l'abbiamo fatto così Con 3-4 esercizi I piedi Abbiamo detto Con questo rullo grande Non si riescono a lavorare bene Ma con quello piccolo Mettendolo sotto E mettendoci su un po' di pressione Si sente molto l'effetto Sulla fascia plantare Abbiamo volendo anche La doppia pallina Grazie ai miei assistenti Vedete Questa qua La duo ball Questa qui è ottima Per Uno per la Schiena Perché Avendo La Scanalatura in mezzo Vediamo se riesco a farla a vedere La colonna passa qua in mezzo E con le due Palline Massaggiate i muscoli A fianco alla colonna Senza andare a schiacciare Le vertebre Come Fatte invece con il rullo Quindi questa qua è ottima E è ottima anche per Per i tendini Ad esempio tendine d'Achille Io la uso tantissimo Perché riesco a lavorarci Moltissimo Sulla parte bassa Mettendoci sul peso Quindi Questi Diciamo Con questi tre Strumenti Rullo piccolo Da duo ball E rullo grande Si riesce già a far tutto Non serve avere un rullo Particolarmente Largo Perché questo è piccolino Ma per la schiena È sufficiente Ci sta in valigia Pesa poco E quindi Si riesce anche a portare in giro Quindi abbiamo detto 3-4 esercizi Pianta del piede Polpacci I muscoli anteriori Della gamba Se vogliamo Ogni tanto Non fa male Dargli una passata Anche Con le mani Riusciamo volendo Qui davanti Quadricipite E fascia alata Soprattutto per Il momento Che abbiamo detto Adesso Visto che abbiamo Lavorato tanto Nelle settimane scorse Con Il quadricipite Anche in flessione Avanti In questa posizione Se abbiamo fatto rulli Con la bici Oppure se abbiamo fatto Comunque anche tutti gli step up Siamo sempre in questa posizione Di affondi Siamo sempre Con l'angolo chiuso All'anca In questo modo E abbiamo cercato Di allungare un po' La parte anteriore Perché adesso Quando andiamo a correre Dobbiamo comunque essere in grado Di spingere indietro Senza avere delle tensioni Che mi facciano far questo Quindi cerchiamo un po' Di allungare La parte anteriore Più di quella posteriore In questo momento E Basta Io non starei a fare altro Alla fine Abbiamo lavorato Un 20 minuti Chiacchierando Tutto questo Se lo comprimete In 10 minuti Riuscite a farlo 3-4 esercizi 30 secondi Per gruppo muscolare Fatti Dopo Dopo aver corso Se li fate a freddo Si sente ancora di più L'effetto Le varie tensioni Che avete Perché quando siamo a caldi Un po' È imbrogliato Il sistema Dal fatto che C'è più sangue Nella zona muscolare Quindi È tutto un po' Più fluido Il movimento Mentre se lo facciamo a freddo Siamo più rigidi C'è più tensione Però È più La condizione reale Quindi Potete tranquillamente Farlo anche A freddo L'unica cosa Ve lo sconsiglio Subito Prima di una gara Se lo fate Due o tre ore Prima Va bene Se lo fate Cinque minuti Prima Di una gara Magari Non è il massimo Perché potrebbe dare Una sensazione Un po' di Rilassamento Troppo alto Che non va bene Prima di una gara Quando bisogna essere Comunque un po' In fibrillazione Per riuscire A essere carichi Ok Se non ci sono domande Tra i commenti Eccetera Ovviamente potete farle Anche più avanti Grazie a tutti E Approfitto per dirvi Che domani sera Alle sette Sulla pagina Di Spirito Trail Faremo un'intervista Con un paio Di preparatori Se andate su Facebook Sulla pagina Dovrebbe esserci qualcosa Adesso vedo di metterlo Anche sulla mia Con i link Ci vediamo Buon weekend E buone corse Visto che ormai Più antiannino Si può riprendere Non esagerate Partite con calma E con la mascherina